gennaio 2022 quindi proprio all'inizio di quest'anno decidiamo di fare un passo importante per quanto riguarda su in più un giorno infatti mentre eravamo al lavoro ci guardiamo e diciamo perché non apriamo un canale youtube dove magari pubblicare dei contenuti gratuiti dove appunto possono essere espressi dei concetti utili un po per tutti in modo che le persone che guardano questo materiale possano sin da subito riuscire magari a migliorare o imparare qualcosa di più per quanto riguarda il noto e la tecnica di nuotata da lì proprio il 10 gennaio pubblichiamo il nostro primo video del format migliora la tua nuotata e da lì inizia veramente poi tutta la parte di pubblicazione infatti abbiamo in mente siamo partiti dallo stile libero ma abbiamo in mente proprio di ampliare la pubblicazione anche su tutti gli altri vari stili di nuotata e aprirci anche ad altri format come abbiamo già fatto con appunto il format dei nuoti salute per rendere appunto ancora di più questi video utili e d'aiuto un po per tutti questi video iniziano a piacere sin da subito e mi ricordo che a un certo punto decidiamo di portare il tema del respiro e dell'affanno che è uno dei problemi tipici e più comuni tra tra i nuotatori a quel tempo se ne occupava luca di tutta la parte del montaggio video mentre adesso abbiamo un altro ragazzo andrea che si prende diciamo tutta la parte di cura dei video quindi di video making e ad un certo punto quindi finito di non appena finito di registrare il video lo riascoltiamo quindi riguardiamo tutto e ci accorgiamo che l'audio era completamente compromesso era veramente tutto metallico e si sentiva davvero male decidiamo lo stesso di pubblicare quel video perché il contenuto era di estremo valore e ad oggi infatti è il video con 140.000 visualizzazioni assolutamente di gran lunga più visto del nostro canale da quel giorno comunque sia la pubblicazione continua fino a che ci scrive david colgan mi ricordo ancora la sua candidatura dove scrive sono un triatleta e credo di essere veramente competitivo nella frazione di ciclismo e di corsa mentre nel nuoto proprio non riesco quindi in vista dei miei appuntamenti molto importanti vorrei appunto migliorare fatto sta che david è un triatleta age group con un passato da ex ciclista professionista campione italiano di maratona m40 nel 2021 con il tempo di due ore 26 e un ironman da sotto le nove ore con alle spalle già una partecipazione a campionati mondiali di cona alla uai quindi insomma uno che sa il fatto suo david al tempo era uno dei nostri dieci clienti e tutt'oggi a distanza di più di sette mesi continuiamo a curarli tutta la parte acquatica comunque noi continuiamo a seguire i nostri clienti e ad un certo punto ci scrive alessandro resch nonché biomeccanico e tecnico del forlì nuoto alessandro è stato il punto di riferimento e coach di fabio lombini uno dei nuotatori più promettenti che il panorama natatorio poteva offrire al tempo soprattutto nelle distanze dei 200 e dei 400 stile libero più promettenti proprio perché purtroppo fabio scomparse in un incidente aereo il 31 maggio 2020 io con fabio mi rimase impresso proprio perché condivisi con lui e vinse proprio quella gara ai campionati italiani giovani del 2017 la finale che appunto fece a roma e diciamo fu un caso in un certo senso che a distanza di qualche anno ci siamo risentiti proprio con alessandro decidiamo così insieme ad ale di organizzare a distanza di due anni dalla scomparsa di fabio la prima master class dal vivo per tutti i nuotatori master e triatleti di tutti i livelli nel frattempo sempre in quei giorni pochi giorni prima dall'evento marco si laurea e diventa dottore in scienze motorie sportive così sabato 28 maggio partiamo subito diretti per cesena dove il giorno dopo poi ci sarebbe stato l'evento quindi facciamo una cosa privata proprio l'evento si svolse la piscina di cesena dieci persone facciamo proprio una cosa veramente molto stretta per cercare di lavorare al meglio possibile con una qualità quanto più alta possibile e essenzialmente quello che facciamo quindi in quel giorno è condensare tutto quello che swing prove offre nei suoi percorsi personalizzati in un'intera giornata dal vivo quindi partiamo la mattina con una sessione di teoria della biomeccanica dello stile libero partendo proprio dalle basi teoriche per capire cosa si deve fare cosa non si deve fare in acqua e per avere veramente coscienza del gesto motorio acquatico la parte successiva fu proprio una sessione intensa di riprese subacque per capire e rendere le persone consapevoli del loro della loro notata della loro loro tecnica motivo per cui subito nel pomeriggio siamo andati ad analizzare in maniera specifica proprio quei video andando ad analizzare quelle che erano proprio le problematiche sulla sulla notata andando proprio a capire in maniera specifica dove fossero i problemi e le loro cause una volta capita avendo permesso alle persone di avere piena consapevolezza di come si stava muovendo il loro corpo in acqua siamo appunto scesi in acqua e siamo passati alla parte pratica dove abbiamo applicato veramente tutte quelle correzioni specifiche tramite una progressione didattica che comprendesse anche degli esercizi in realtà poi la giornata non è finita lì il nostro evento proprio perché nei giorni successivi abbiamo fornito ad ogni cliente un file un documento testuale dove venivano riassunte in un certo senso tutte le loro problematiche analizzate durante quella giornata quindi un foglio una sorta come abbiamo già detto di radiografia di quella che è la loro notata per poi soprattutto andare a condividere di nuovo i concetti già espressi durante la giornata in una video analisi anche per capire come e in che modo continuare e progredire magari nel futuro all'interno del nostro percorso sapevamo di poter far bene l'unica preoccupazione era un po il tempo perché diciamo che le previsioni non erano le migliori proprio perché non è che promettevano sole tutto il giorno il tempo comunque regge fino a fine giornata e l'evento viene fuori davvero una bomba quindi fu un successo assoluto per noi ma soprattutto anche per le dieci persone che hanno deciso di darci fiducia a giugno abbiamo pubblicato anche un video sul nostro canale youtube che riassume in maniera sintetica tutto quello che è stato quella giornata ma in realtà siamo qui e sono qui quest'oggi per annunciarvi ufficialmente una nuova data infatti il 2 ottobre ripeteremo l'evento questa volta amplieremo però il partecipante a 20 persone ufficialmente saremo a Roma quindi mi raccomando se volete avere informazioni di più per quanto riguarda l'evento o volete capire come partecipare mi invito a cliccare direttamente le link in descrizione vi ricordo però che sarà possibile partecipare soltanto per 20 nuotatori e 3 tete quindi affrettati beh noi siamo sempre gli stessi l'unica differenza è che da due siamo diventati cinque in primis con l'aggiunta di Lorenzo e Luca come coach e poi con l'aggiunta più recente invece di Andrea il nostro videomaker scelto da poco sotto la nostra selezione come appunto dicevo prima sicuramente aver avuto fino adesso 50 clienti quindi 50 atleti che abbiamo curato è stata veramente un qualcosa di grande soprattutto sotto il lato dell'esperienza ci ha permesso di crescere tante poi insomma siamo davvero molto contenti perché comunque anche dopo l'annuncio di oggi poter dire che il 2 ottobre saremo a Roma per una nuova masterclass è per noi un qualcosa di grandioso siamo davvero molto contenti e spero che lo siate anche voi sicuramente l'obiettivo sarà quello nei prossimi mesi di espandere queste masterclass in giro per l'italia anche per offrire a tutti il più possibile diciamo la capacità o comunque il modo di poter vivere insomma un'opportunità del genere la strada è ancora tanta ne dobbiamo fare davvero ancora tanta però non è tutto credo che in pochi lo sappiano ma a giugno di quest'anno quindi poco tempo fa ci hanno contattato da Livorno con l'intento di collaborare con noi insieme decidiamo di creare un progetto che valorizzasse i giovani nuotatori convolgendo anche i campioni olimpici che questa città offre come appunto Gabriele Detti, Alberto Razzetti, Sara Franceschi, Matteo Ciampi e Federico Torrini nasce così la 5 cerchi academy. 5 cerchi academy è dove un giovane nuotatore può imparare crescere e puntare al massimo al fianco dei campioni e sotto la guida dei loro più grandi coach come per esempio Stefano Morini e Stefano Franceschi e infatti 5 cerchi academy richiama proprio i 5 cerchi olimpici perché è preseduto dagli atleti e dai coach che hanno partecipato alle olimpiadi. Infatti è un modo quindi 5 cerchi academy è un modo anche per avvicinare questi giovani atleti al professionismo in tutte le sue sfaccettature e magari perché no dandogli anche un po' di visibilità. A luglio quindi decidiamo di condividere il tutto sui nostri canali social dando effettivamente la possibilità a 40 atleti 40 ragazzi di partecipare a questa bellissima esperienza. Dopo neanche 30 giorni riusciamo a concludere tutti gli iscritti a completare i posti a disposizione e prendendo atleti un po' da tutta Italia e non. Da domenica 11 a mercoledì 14 settembre quindi saremo appoggio all'agnello nel bellissimo golfo di Baratti a Piombino in Toscana e per iniziare questo anno con questo camp di inizio stagione. Abbiamo anche l'intenzione di crearci qualcosa di veramente carino attorno ma per adesso non vi svegliamo niente. Non ci sentiamo più è capitato spesso di ritrovarci in giro e ci si alusiamo come buona educazione vuole però mai nulla di più.